Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio Ci troviamo a fare un bel pranzetto vegano con Mirella e Mauro Ciao! Che vi salutano Ciao! Siamo stati a fare un breve corso di riconoscimento di erbe spontanee Come sapete, se volete potete venire qua e imparare le erbe spontanee da mangiare E adesso ci facciamo un bel pranzetto vegano con le bruschette che sono quasi pronte Le bruschette in due versioni, al pomodoro e coi funghi cardoncelli I funghi sempre coltivati da me, purtroppo il pomodoro è compero per adesso Poi per secondo abbiamo la cicoria raccolta ripassata in padella col peperoncino e con l'aglio selvatico Il peperoncino coltivato da me e l'aglio selvatico raccolto da me, eccolo qua E poi per primo stiamo cucinando la pasta, anche quella purtroppo compera Però con un bel sughetto, eccolo qua, di nuovo con i funghi cardoncelli Con la cipolla autoprodotta, con il pomodoro autoprodotto L'aglio sempre selvatico Quindi niente, se volete venire a pranzo, all'ortoddio Se volete venire a fare un corso, se volete ordinare delle verdure Chiamatemi, lo sapete, io sto qua Mauro e Mirella vi salutano Ciao Ciao a tutti e buon appetito Ciao